In questo periodo di grande confusione anche per l'Oreca c'è chi grida basta ristori mentre c'è chi chiede ristori e sostegni con quasi tutti i settori travolti dall'emergenza ma parliamo anche di qualcosa che va bene come l'e-commerce del vino e di una mostra di bellezza e gusto a Roma Bentrovati amici su Oreca Channel Italia oppure benvenuti se siete per la prima volta su questo canale ecco le 5 news che abbiamo scelto per voi oggi, prego Pronte Novax se la prende con tutto e tutti e ora attacca anche bar e ristoranti l'hashtag basta ristori impazza sui social con commenti confusi e alcuni a dir poco demenziali un tutti contro tutti, i gestori contro il green pass che inibiscono l'accesso ai Novax e i Novax contro i gestori che chiedono il green pass prese di posizione quelle di hashtag basta ristori che non ha una logica alcuna se non accrescere tensioni e criticità di cui si farebbe volentieri a me con 10 milioni di italiani forzati a casa il mercato dei consumi extradomestici è ai minimi termini e torna a chiedere sostegno al governo sollecitando in particolare la proroga degli ammortizzatori sociali scaduti a fine anno ovvero la cassa integrazione Covid a rischio altri 50.000 posti di lavoro solo nel settore dei pubblici esercizi l'allarme è lanciato da Fipecon Commercio e iGrim associazione delle imprese di grande ristorazione e servizi multilocalizzate quali i comparti orecca maggiormente penalizzati dal risalire della curva di contagio ed una massiccia ripresa dello smart working i locali presenti nelle città d'arte per mancanza di turismo internazionale le attività di catering e banqueting legate a cerimonie ed eventi e la ristorazione collettiva zoppata dal lavoro in remoto male anche la ristorazione commerciale in aeroporti, stazioni ferroviarie, aree di servizio autostradali peggio di tutti, la drammatica situazione delle discoteche e dei locali di intrattenimento ad oggi nuovamente chiusi un inizio di anno da incubo per l'orica andiamo ora su un paio di news meno critiche la prima parla della crescita esponenziale che registra l'e-commerce delle bevande alcoliche il cui mercato globale è destinato ad ampliarsi secondo stime di IWSR l'Istituto Londinese di Ricerche di Mercato su Vine e Bevande Alcoliche nei prossimi 4 anni il suo giro d'affari dovrebbe raggiungere i 42 miliardi di dollari con un incremento del 66% l'e-commerce, commenta Guy Wolf, strategic inside manager per IWSR si è fortemente radicato in molti consumatori consolidando il suo ruolo di terzo canale di vendita per l'acquisto di bevande alcoliche un drink e un dolce per accompagnare al meglio la visione delle opere di Gustav Klimt che sono da sempre fascino, magia e pura bellezza il drink che viene offerto ai visitatori si chiama Il Bacio di Emily ideato da Sara Paternesi un cocktail a base di vodka con liquore di passion fruit liquore strega, liquore di pesca, acqua faba e limone decorato con una foglia d'oro e un bocciolo di rosa gli elementi tanto amati da Klimt il dolce invece è una delizia viennese musse di cioccolato fondente e caffè adagiata su un biscuit al cacao e ricoperta da una glassa a specchio wow la mostra dedicata a Klimt ben 200 opere è in cartellone a roma presso palazzo braschi da non perdere anche per il drink e il dolce bene grazie come sempre per la tua attenzione concludiamo oggi con Steve Jobs le cui parole ci hanno accompagnato questa settimana testi che abbiamo tratto da questo bel volume qui edito da Rizzoli siate affamati siate fogli che è senza alcun dubbio la sua frase cult ma oggi concludiamo con un altro pensiero lui affermava darei tutta la mia tecnologia in cambio di un pomeriggio con Socrate cosa ha voluto dire? che la filosofia, quella scienza umana capace di mettere sempre tutto in discussione vale molto di più di una tecnologia che ci dà solo certezze e comodità? non sappiamo se era questa la riflessione che faceva Jobs preferiamo restare nel dubbio in fondo la strada del progresso è sempre stata lastricata di molti dubbi e di poche certezze ciao ci vediamo domani per gli spunti di vista